Mi riferivo a questo fantastico articolo sul Corriere della Sera di Lea Vergine, diceva che gli eventi cambiano la storia e quindi queste presentazioni, per usare un sinonimo, non sono eventi, o meglio, possono esserlo alcuni di questi eventi. Se dovessimo trovare un'altra parola, io parlerei di presentazione, mostre, di proposte, di scenari, non lo so, presentazione forse è il sinonimo più azzeccato. Cosa pensi del rapporto tra il bianco e il nero? Una provocazione, potrei citare e cantare l'inno della Juventus sul bianco e il nero, però al di là del discorso, ecco, mi è piaciuto di quello che abbiamo detto prima, si parlava di colore naturale, quando ci si distacca, discosta dal colore naturale, si va verso l'innovazione. Io non so perché pensavo alla Germania, al nero, al grigio, alla morte dell'arte di Hegel e a tutte queste cose qua, però non so fino a che punto l'innovazione è il discostarsi dal colore naturale, ecco, una cosa sulla quale non ero molto d'accordo. Secondo me l'innovazione è reinterpretare in modo innovativo il colore naturale, ecco.